Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di un argomento che è molto semplice, addirittura scontato, come esportare i nostri video da Premiere Pro e andremo a vedere che forse questo argomento è un po' più complicato di come ce l'hanno messa giù. Vi faccio subito una precisazione, questo video ha i capitoli quindi se siete interessati a una parte specifica potete andare a prendervi quella parte specifica nei capitoli. Io vi consiglio comunque di seguirlo tutto il video perché ci saranno delle informazioni che magari darò all'inizio e poi dopo le darò per scontati o mi rifarò a quanto detto in precedenza quindi consiglio comunque di guardarlo tutto però se vi interessa una parte specifica vi ricordo che ci sono i capitoli. Vi ricordo anche che se volete rimanere aggiornati e non perdervi i prossimi contenuti il bottone iscriviti è qui sotto da qualche parte, quello rosso c'è una campanella di fianco se cliccate anche quella c'è un premio. Mi sono reso conto nel corso degli anni che esportare video è un argomento molto spinoso questo semplicemente perché nel momento in cui andiamo a creare il nostro progetto abbiamo imparato ormai come si organizza una timeline sappiamo giostrarcela abbastanza bene ma nel momento in cui dobbiamo andare a esportare il nostro lavoro finito quindi il nostro montato o i nostri effetti speciali qualunque cosa sia il nostro progetto nel momento in cui dobbiamo andare a esportarlo abbiamo dinanzi a noi una miriade di opzioni diverse non c'è nessuno che ci dica qual è l'opzione giusta oltretutto esistono combinazioni di impostazioni quindi magari io sto esportando con una certa risoluzione e con un certo codec ma magari non so che quella risoluzione va bene quel codec invece no quindi matchare tutte queste impostazioni può diventare abbastanza ostico. Nel corso di questo video vi farò vedere come sono solito esportare io vi spiegherò le motivazioni che stanno dietro a queste scelte in maniera tale che siate in grado ad applicarle anche a quelle che sono le vostre produzioni. Ora una precisazione io lavoro esclusivamente su Premiere Pro e lavoro esclusivamente per il web quindi io non faccio broadcast non faccio cinema non faccio niente del genere quindi purtroppo perché mi piacerebbe farlo ma non ho occasione di farlo mi occupo unicamente di digital di web di internet quindi tutto quello che vi farò vedere io e su cui sono sicuro di quello che vi sto dicendo perché è quello che faccio abitualmente riguarda il comparto web quindi non sto a farvi vedere come si esporta in cinema 8k per le sale non è un video di questo tipo non vi faccio vedere cose di questo tipo vi faccio vedere molto semplicemente come si esporta per il web anche perché sono convinto che se dovete esportare un progetto per il cinema siate dei professionisti quindi lo sapete già fare non avete bisogno che ve lo dica io invece se siete neofiti o dilettanti o amatori o comunque non professionisti vi interessa semplicemente capire come si tira fuori il nostro progetto da questo diavolo di premiere che impostazioni bisogna dargli per le varie piattaforme quindi come si esporta per instagram come si esporta per youtube ci occuperemo di questo nel corso del video qui stavo montando il mio ultimo video che sicuramente avrete già visto se non l'avete visto andatevelo a recuperare vi lascio anche la card era un video in cui si parlava di tre piedi per foto e video ma soprattutto per foto ora al di là delle facce da stupido che riesco a fare nei fermi immagini questo qui è il nostro progetto ora io ho una funzione che è molto utile che vi consiglio di fare anche voi io adesso vado a togliere l'in and out l'in and out serve a stabilire l'area di lavoro che esportiamo quindi una prima cosa che vi dico sull'export è che se io in questo momento lanciassi un export esporterei l'intera timeline non è questo che io voglio io voglio esportare una specifica porzione quindi quando voglio esportare una specifica porzione devo selezionare quella porzione la porzione si evidenzia da qui quindi io vado a posizionarmi in un punto e vado a premere i la lettera i sulla mia tastiera che sta per in oppure vado a cliccare le parentesi graffe che sono presenti qui all'interno della mia interfaccia quindi gli vado a dire mark in e quindi la mia timeline verrà esportata da questo punto in avanti se poi io voglio fermarmi a un certo punto per esempio in questo punto mi sembra appropriato io voglio fermarmi gli vado a dire mark out a questo punto se io vado in export esporterò solamente la porzione selezionata questa porzione può essere trimmata quindi io posso decidere che voglio andare a prendere tutto il mio video oppure posso prenderne solo un pezzo perché potrei anche dirlo voglio esportare fin qui perché voglio fare voglio spezzettarlo e fare dei mini video prenderne delle porzioni diverse si possono fare entrambe le cose è importante farlo perché soprattutto su una sessione incasinata come questa dove ci sono tre video montati dentro io vi dico sempre di essere ordinati ma non sempre io lo faccio qui ci sono tre video e se io vado in export così il mio computer esplode perché qui ci sono due ore 29 di video racchiusi all'interno di questa timeline e io devo essere molto specifico nel dirgli che io voglio esportare solamente questo pezzo non lo voglio esportare tutto quindi vado a lavorare nella maniera migliore e gli dico i punti di in e out c'è una cosa in più che potete fare che io ho fatto è una cosa secondo me utilissima nel momento in cui io vado a selezionare la mia porzione di girato io ho abbinato un pulsante da tastiera con cui gli posso dire abbina in e out alla selezione questo si fa andando dentro nelle impostazioni dentro nei predefiniti e abbinando questo comando a un pulsante da tastiera libero di vostra scelta in maniera tale da non andare a scombinare il resto della tastiera diciamo che in un modo o nell'altro abbiamo selezionato quello che ci interessa esportare quindi abbiamo fatto la nostra selezione questa è la porzione di video che vogliamo esportare a questo punto quello che ci rimane da fare è andare su file export e media io mi ricordo memoria il comando da tastiera quindi command m o control m se siete su pc quindi andiamo a premere quest'opzione e questo è il pannello di esportazione che è proprio il cuore di questo video ora io vi faccio vedere le impostazioni che utilizzo solitamente per esportare video per youtube questo è un argomento che ho già trattato in un video precedente in cui però c'era il focus sull'audio adesso invece andiamo a vedere tutte le opzioni di esportazione allora innanzitutto output name 4k 9 questa è la nomenclatura standard che io do ai miei video che tanto non archivio nel senso che una volta postati li elimino non mi sto a conservare tutta questa roba perché pesa troppo e non ne vedo francamente la ragione andiamo a vedere che cosa succede all'interno di questa sessione di export intanto vediamo che ho usato la qualità di render massima quindi questo è una cosa che io consiglio di fare perché è un peccato non esportare alla qualità massima quindi renderizziamo con la qualità massima time interpolation frame sampling questo è standard qui ti dice la dimensione stimata qui c'è la possibilità di renderizzare solo il canale alfa ovviamente noi non vogliamo questa cosa c'è la possibilità di importare il nostro export all'interno del progetto al termine dell'export anche questo non lo vogliamo andiamo a vedere le impostazioni che riguardano il video intanto qui io potrei dire match a sorgente e quindi mi darebbe in automatico le stesse impostazioni del della mia sorgente ma non è questo che voglio in questo caso sarei andato semplicemente qui e gli avrei detto match a sorgente con un bitrate alto e quindi avrei avuto il match automatico su tutti i parametri quindi non glielo vado a dire da qui glielo vado a dire semmai da qua sto esportando in h264 e il preset è custom perché è quello che uso io solitamente quindi è un preset che non ho salvato se io lo volessi salvare qui ho safe preset quindi al termine delle mie modifiche su questo preset posso salvarmelo e quindi poi me lo ritrovo qui nominato col nome che gli ho dato io e quindi posso salvarmi neanche diversi a seconda di quello che sto facendo vediamo innanzitutto basic video settings qui abbiamo 3840x2160 quindi è un 4k conclamato siamo a 2397 frame al secondo abbiamo un field order progressive abbiamo l'aspetto che è pixel quadrati 1.0 queste sono importanti tenetele così perché altrimenti vi si scombina tutto e anche qui render at maximum depth così abbiamo il render alla profondità massima e questo va bene così qui per le impostazioni di encoding abbiamo hardware accelerated o software only se abbiamo la possibilità che la nostra macchina ci concede di fare hardware accelerated bene altrimenti software only va bene lo stesso qui bitrate settings io gli dico variable bitrate one pass a differenza di constant bitrate che mi darebbe un bitrate costante per tutto il video questo mi consente una variabilità a seconda delle immagini che ci sono a video quindi se ci sono immagini più complesse il mio bitrate può variare se ci sono immagini statiche il mio bitrate può diminuire per il resto lasciamo tutto così perché il nostro video non è VR non è immersive quindi qui ci siamo abbiamo finito andiamo sulla sezione audio formato audio io lascio AAC non mi interessa quale dei due usiamo potrei usare MPEG ma tendenzialmente lascio AAC quindi va bene così ovviamente siamo su un sample rate di 48 kHz questo è importante perché se noi andiamo a 44 e 100 la stiamo abbassando un pochino se andiamo a 32 la stiamo abbassando di parecchio questo secondo me è la qualità massima che abbiamo e va bene così siamo in stereo ovviamente possiamo fare anche in mono 5.1 ma dobbiamo averlo fatto nella sessione dobbiamo aver gestito le tracce di conseguenza mono glielo possiamo sempre dire però se lasciamo stereo male non fa quindi va anche bene così qualità audio alta vogliamo la qualità comunque che sia alta bitrate settings io di solito lascio 320 tenete conto che un buono standard potrebbe essere anche 96 io lo lascio a 320 perché comunque l'audio è la componente più leggera del nostro video quindi non è questo che mi fa lievitare il peso e quindi va bene così per quanto riguarda l'audio direi che siamo a posto per quanto riguarda i sottotitoli captions qui c'è una cosa importante vedete che in questo momento io ho l'opzione che è in grigio non posso fare niente perché non ci sono i sottotitoli nel mio video se ci fossero i sottotitoli su export options ci sarebbe la possibilità di dirgli di esportare effettivamente i sottotitoli qui è impostato su nessuno se ci fossero dei sottotitoli io dovrei abilitarli qui per renderli visibili nel mio export altrimenti se io ho fatto i miei sottotitoli ma non abilito all'export esporterò un video in cui i sottotitoli sono invisibili questo è importante nel caso vogliamo fare i sottotitoli passiamo alla parte effetti allora per quanto riguarda questa parte io qui non faccio praticamente niente qui è pieno di cose che in effetti posso anche chiudere perché sono tutte cose che non faccio le lascio così perché a meno di un'esigenza specifica queste sono cose specifiche che non uso però c'è una cosa invece che usiamo ed è la loudness normalization questo è importante vi rimando nuovamente al video in cui parlavo di esportare l'audio per youtube questo è importante perché nel momento in cui esportiamo per il web e per youtube in particolare questo è uno standard che va rispettato quindi loudness standard gli dobbiamo dare questo parametro che è quello corretto per youtube gli dobbiamo dire target loudness meno 14 lufs tolleranza 0 max tro peak level meno 1 quindi queste sono le impostazioni da dare agli effetti se stiamo esportando per youtube solamente per youtube nel senso che queste impostazioni vanno bene per la maggior parte delle piattaforme ma spesso non ce n'è bisogno se questo è un video per instagram o per un altro social non c'è bisogno di dargli questa impostazione fra l'altro questa normalizzazione mangia parecchio tempo di export nel senso che richiede molto più tempo per fare l'encoding del nostro video è un'opzione abbastanza pesante da abilitare quindi fatelo solamente se state esportando per youtube queste sono le impostazioni che io uso di solito per esportare i miei video per youtube adesso andiamo a vedere che altre possibilità ci sono per esportare i contenuti in altre maniere bene ma ora eccoci qui all'interno di una nuova sessione di premiere con un filmato che non abbiamo editato perché questo è semplicemente un filmato che ho importato per fare questa dimostrazione andiamo quindi a lanciare la nostra finestra di export e andiamo a vedere che qui abbiamo la possibilità di ritagliare il nostro export finale quindi questa videata ci restituisce quello che sarà il nostro export qui noi se andiamo su sorgente abbiamo la possibilità di cliccare lo strumento taglierina e qui abbiamo la possibilità di ritagliare il nostro frame abbiamo anche la possibilità di selezionare delle proporzioni quindi se vogliamo per esempio che sia 16 decimi possiamo selezionarlo e possiamo andare a rifilare il nostro video esattamente nella maniera che vogliamo poi possiamo allargarlo mantenendo le proporzioni infatti è sempre impostato su 16 decimi in questo modo possiamo fare il rifilo che vogliamo e a questo punto se andiamo su output vedete che abbiamo le bande nere perché abbiamo rifilato una porzione che è più piccola della nostra videata classica da 16 noni quindi possiamo andare a selezionare una serie di opzioni per risolvere questo problema quindi abbiamo scale to fill che come vedete ha ritagliato delle parti per riempire completamente oppure abbiamo stretch to fill quindi viene deformata la nostra immagine per riempire il monitor oppure abbiamo scale to fit with black borders quindi è quello che avevamo prima sostanzialmente abbiamo lasciato le bande nere a questo punto se rimuoviamo la spunta vedete che possiamo andare a giocare con questo parametro per cui andiamo a modificarlo con i tasti direzionali e poi andiamo a premere il tasto tabulazione non premiamo il tasto invio perché altrimenti parte l'export quindi andiamo avanti fino a quando non raggiungiamo l'amount desiderato che in questo caso potremmo anche calcolare andando a fare la proporzione tra lato lungo e lato corto però possiamo anche arrivarci semplicemente vedendo quando è che arriviamo a margine quindi io posso andare avanti per step e nel momento in cui mi rendo conto che sono arrivato alla misura giusta ecco ancora uno step ecco fatto in questa maniera ho correttamente rifilato la mia immagine a questo punto potrei andare in export e questo è un modo di ritagliare l'immagine nel momento in cui andiamo a esportarla ovviamente noi possiamo anche fare una cosa molto più pratica come per esempio andare a rifirarla in 9 sedicesimi se vogliamo esportare una story quindi questo è quello che andiamo a fare ovviamente il formato 9 sedicesimi ci è un pochettino più congeniale perché in questo caso sappiamo che siamo a 1216x2160 pixel e quindi nel momento in cui andiamo in output noi sappiamo che gli possiamo dare esattamente queste proporzioni 1216x2160 ed ecco che abbiamo ottenuto esattamente il frame che ci serviva poi possiamo andare a spostarlo in maniera tale che sia nella posizione in cui noi lo vogliamo e a questo punto possiamo andare a premere esporta ora vediamo invece come è possibile esportare per instagram in formato quadrato in questo caso siamo agevolati perché noi sappiamo già che il formato per instagram è 1080x1080 per cui andiamo a impostarlo direttamente e quindi sul nostro output avremo un formato quadrato adesso però vogliamo andare a scegliere quale sarà la porzione che visualizziamo qui andiamo a restringere e andiamo a cercare di beccare 2160x2160 ecco qui non è stato facile ma ce l'ho fatta a questo punto possiamo spostare la nostra cornice possiamo andare a selezionare la porzione che ci interessa a questo punto se torno su output avremo esattamente la porzione che volevo il formato finale è già quello corretto ovviamente questo formato può anche essere più piccolo o più grande l'importante è che sia mantenuto il rapporto e questo è quello che succede nel momento in cui vogliamo croppare il nostro frame ma può anche darsi invece che ci vada benissimo così andiamo quindi a vedere le impostazioni principali che ci permettono di esportare il nostro filmato una volta che abbiamo deciso che il crop è stato effettuato o anche semplicemente senza effettuarlo vediamo innanzitutto l'export settings allora qui abbiamo la possibilità di matchare le impostazioni della sequenza quindi se io gli dico match sequence settings sostanzialmente è già tutto fatto perché il mio export ricalcherà esattamente quelle che sono le impostazioni della sequenza da cui sto esportando quindi verranno mantenute tutte le caratteristiche posso modificare molto poco qui perché sostanzialmente gli ho detto fai tu prendi tu le caratteristiche che ci sono già nel mio filmato questa è una cosa che io di solito non faccio invece io seleziono il mio formato H.264 talvolta potrei anche essere tentato di usare l'H.265 ma non è ancora il momento secondo me perché lo standard è ancora l'H.264 sulla maggior parte delle piattaforme quindi teniamo questo per adesso qui gli possiamo dire match source high bitrate questa è l'opzione che io do di solito quando devo fare un export veloce della sequenza per avere una preview o per mandare una preview a qualcuno se gliela devo mandare comunque in alta risoluzione uso quest'opzione di nuovo le impostazioni sono già quasi tutte impostate di default perché gli ho detto di andare a fare un match quindi non dovrò fare granché esistono delle opzioni molto interessanti all'interno di questa tendina perché qui ho la possibilità di selezionare high quality 1080 per esempio quindi in questo caso vado a selezionare un full HD di qualità abbastanza alta il frame rate ovviamente dipende dalla mia sequenza in questo caso era 24 frame al secondo e viene mantenuto square pixels questo deve sempre essere mantenuto render maximum depth questo viene sempre tolto ogni volta che io cambio il preset quindi ogni volta glielo devo ridare però è bene tenerlo per quanto riguarda la bitrate qui abbiamo un target bitrate di 20 quindi abbiamo una qualità abbastanza alta consideriamo però che questo video originariamente era in 4k quindi andiamo a vedere che cosa succede se gli diamo il preset high quality 4k vediamo che cosa succede innanzitutto le proporzioni sono tornate quelle originali della sequenza perché questa è una sequenza girata e montata in 4k andiamo a vedere che di nuovo gli devo ridare maximum depth e maximum render quality tutte le volte glielo devo ridare vediamo che il livello si è spostato a 5.1 quindi il livello è andato quasi al massimo la qualità è sempre alta e vediamo che qui la bitrate è andata a 80 e in questo momento la dimensione stimata del file si aggira intorno ai 2 giga e mezzo quindi qui vediamo in tempo reale quanto peserà il nostro file d'uscita nel momento in cui facciamo delle modifiche ovviamente questo è un file con una risoluzione molto alta e peserà tanto noi dobbiamo sempre fare la tara su questa cosa perché dobbiamo anche cercare di non esportare file troppo pesanti anche perché dipende dalla destinazione se le stiamo mettendo su internet e sui social avere file di queste dimensioni è assolutamente controproducente una cosa che si fa molto spesso è che si va invece a selezionare un preset che vada bene per la nostra destinazione quindi per esempio youtube 4k io vado a selezionare questo preset vedete che le impostazioni sono rimaste pressoché uguali abbiamo sempre square pixels ovviamente gli dobbiamo ridire un po' di cose tra cui maximum depth e maximum render quality e questo va bene abbiamo sempre un livello 5.1 però vedete che la target bitrate è scesa a 40 quindi avremo un file che peserà circa la metà di prima e quindi sarà un pochettino più gestibile questo è un filmato che non è particolarmente lungo perché dura 4 minuti e 27 secondi quindi comunque un video di 4 minuti che pesa un giga e mezzo diciamo che è una cosa fattibile in questo caso sappiamo già che lo dobbiamo caricare su youtube quindi va bene così ovviamente se lo dobbiamo caricare da qualche altra parte qui ci sono altri formati di esportazione che possono andare bene per altre situazioni lo dobbiamo caricare su vmio per esempio qui abbiamo delle altre opzioni di esportazione lo dobbiamo caricare su youtube ma solo in 1080 qui abbiamo il suo preset anche se io consiglio di caricarlo in 4k perché la piattaforma darà dei vantaggi a chi posta dei video con una qualità con una risoluzione maggiore di nuovo come vi ho detto prima se abbiamo fatto delle modifiche possiamo sempre salvare il nostro preset in maniera tale che ci rimanga salvato il lavoro che abbiamo fatto andiamo a vedere le opzioni audio qui come già detto usiamo la compressione AC usiamo 48.000 Hz usiamo i canali stereo usiamo una qualità alta e andiamo a utilizzare un bitrate di 320 così avremo l'audio migliore possibile tanto non è l'audio che fa il peso del video quanto piuttosto le immagini in movimento con queste impostazioni diciamo che più o meno ve la cavate sempre una cosa in più che si può andare a vedere che però è un pannello dedicato quasi esclusivamente a Apple possiamo andare a vedere le opzioni di QuickTime perché all'interno di queste opzioni abbiamo per esempio la possibilità di esportare in formato GoPro Cinema RGB a 12 bit con canale alfa abbiamo la possibilità di farlo con la profondità massima oppure non con la profondità massima però questo è un formato interessante perché è uno dei pochi che consentono di esportare a 12 bit con canale alfa questo io lo uso per esempio quando voglio utilizzare dei sottopancia delle grafiche, delle motion graphics dei lower thirds li esporto in questo formato così poi posso prendere il mio file sorgente e metterlo all'interno di un altro video e mi rimarrà il sottopancia con lo sfondo trasparente è utile per questo motivo come già detto in precedenza se abbiamo inserito dei sottotitoli dovremo andare ad abilitarli da questa tendina altrimenti non verranno esportati se vogliamo andare a mettere degli effetti in particolare per la loudness dobbiamo andare a abilitare questo pannello e dobbiamo andare a fare questa selezione quindi meno 14, 0 e meno 0,1 quindi in questo modo abbiamo le impostazioni corrette per esportare per YouTube di nuovo io vi consiglio di salvarvi un preset quando avete fatto tutte queste operazioni perché se no ogni volta le dovrete rifare se vi salvate un preset sarà disponibile anche se cambiate sessione invece in questo modo rimarranno salvati i parametri ma solamente all'interno della sessione su cui state lavorando a questo punto una piccola cosa che ho scordato di dirvi nel momento in cui andiamo a fare export dobbiamo avere cura di avere selezionata la finestra della timeline vedete che c'è la riga blu intorno se io seleziono un'altra finestra se seleziono per esempio il pannello sorgente io seleziono il pannello sorgente e faccio export in questo momento sto esportando questa risorsa non processata io invece voglio esportare quello che c'è in timeline quindi dobbiamo avere cura di avere selezionata la nostra timeline quando andiamo in export l'ultima cosa che mi interessa farvi vedere è questa nel momento in cui noi siamo in export una cosa molto importante che dobbiamo ricordarci che dobbiamo saper fare è che dobbiamo sapere come esportare in alta definizione e in bassa definizione perché dipende da quello che stiamo facendo ovviamente se stiamo esportando in alta qualità 1080 abbiamo questo preset che ci dà tutte le opzioni che vanno bene dobbiamo solamente ricordarci di riflegare maximum render quality e maximum bit depth quello lo dovremo rifare tutte le volte a meno che non ci salviamo un preset se invece stiamo esportando in 4k abbiamo la nostra opzione alta qualità 4k queste sono opzioni che tendenzialmente vanno sempre bene se stiamo esportando per youtube abbiamo la nostra opzione per youtube tenete anche conto che abbiamo delle altre opzioni che sono per esempio youtube 720p e youtube 480p che possono benissimo essere utilizzate per mandare delle anteprime in bassa risoluzione nel momento in cui io abilito questa funzione il mio file andrà a pesare molto meno rispetto che se avessi usato delle altre impostazioni tenete conto che qui siamo su un giga e mezzo per un filmato che dura 23 minuti abbiamo un target bitrate di 8 quindi è molto molto basso se voglio ridurre ulteriormente la dimensione posso andare a incidere sul peso finale del file riducendo questo numerino del target bitrate ovviamente più piccolo sarà il file e più scarsa sarà la qualità perché in questo caso sto andando a ridurre le impostazioni per secondo che il mio video può contenere quindi vedete che cambia drasticamente la qualità e ovviamente il video sarà molto più brutto se vado a ridurre troppo questo numero io consiglio di non andare mai sotto il 6 7 in questo caso ovviamente il filmato pesa ma 23 minuti mezz'ora di video in un giga è assolutamente tollerabile oltretutto se lo dobbiamo caricare su un sito web io consiglio comunque di caricarlo su youtube e di incapsulare il codice sorgente da youtube in questa maniera non avremo il peso del video sul nostro sito web ma avremo comunque il motore di youtube che ci permetterà di vederlo in tempo reale per cui ricapitolando se dobbiamo esportare in alta qualità andiamo su high quality 1080 o high quality 4k se dobbiamo esportare in bassa abbiamo tutta una serie di opzioni tra cui per esempio youtube 480 psd e in questo caso possiamo anche andare a ridurre ulteriormente la qualità abbassando il target bitrate questo secondo me è uno dei passaggi più importanti che ci dobbiamo ricordare bene amici come avete visto le opzioni sono tante non è così semplice esportare video non è così semplice capire quale impostazione dobbiamo dare al video che stiamo esportando ci sono un po' di cose da ricordarsi e un po' di cose da tenere a mente ovviamente possiamo crearci dei preset così di volta in volta una volta che abbiamo imbroccato la combinazione giusta non dobbiamo ricordarcela ogni volta perché possiamo salvarcela e tenerla lì ovviamente non dobbiamo adagiarci troppo sugli allori perché qualora dovessimo lavorare su un'altra macchina magari non lavoriamo sul nostro computer ma sul computer di un collega, di un socio oppure se cambiamo computer nel momento in cui il nostro computer muore per obsolescenza oppure viene semplicemente sostituito perché arriva un modello più progredito noi magari andiamo a perdere tutte queste cose che ci siamo salvati e che risiedono sulla macchina specifica quindi dobbiamo poi andare a ricrearcele sulla macchina nuova lo possiamo fare magari esportando certe preferenze importandole sulla nuova macchina anche se è una pratica che io personalmente sconsiglio perché fare una cosa del genere potrebbe portare dietro un po' di problemi che avevamo sulla macchina precedente mentre se abbiamo una macchina nuova immagino che se abbiamo comprato un computer nuovo siano passati anni da quello precedente quindi abbiamo un sistema nuovo, un sistema più moderno con l'applicativo nuovo, versione nuova perché non avremo probabilmente la stessa versione che su quello vecchio andremo a installare l'ultima versione mentre su quello vecchio magari siamo indietro di due o tre versioni quindi andare a importare i preferiti è una cosa che in certi casi ci può anche stare per certe cose ma io non lo consiglio è molto meglio mettersi sulla macchina nuova con la macchina vecchia di fianco e dire ok io ho queste tre cose me le ricreo anche perché molte volte sono più facili da ricreare sono migliori e performano meglio quindi è meglio rifarle e si può anche scoprire che molte cose per cui ci eravamo fatti un preset adesso hanno un bottone dedicato quindi è sempre meglio metterci un attimino mano e rendersi conto però detto questo le impostazioni di esportazione che vi ho fatto vedere dovrebbero andare bene ancora per anni dovrebbero rimanere queste dovrebbero rimanere questi sia gli standard delle piattaforme che dobbiamo andare a soddisfare sia le impostazioni che troviamo all'interno della nostra interfaccia dovrebbero rimanere queste magari si aggiungerà qualcosa magari avremo delle impostazioni per esportare nei formati log che sono sempre più diffusi quindi magari io voglio esportare un log magari avremo un'opzione dedicata però queste sono cose che non so nemmeno io dovremo vedere che cosa ci riserva al futuro per il momento quello che ci interessa sapere è come si esporta in alta come si esporta in bassa e come ce la si cava per gestire magari una piattaforma che ha una determinata caratteristica e vuole determinate specifiche piuttosto che altre questo era quello che mi riproponevo di darvi con questo video spero di esserci riuscito vi ricordo a questo punto di mettere un like a questo video se vi è piaciuto di seguire questo canale se volete rimanere aggiornati e ampliare il vostro ventaglio di conoscenze e a me non resta altro da fare se non darvi appuntamento al prossimo video ciao No